ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario kmr liquid informazioni commerciali titolare chi fa srl concessionario chi fa srl confezioni kmr liquid liquido 325 ml formulazione composizione acqua proteina del latte in polvere latte intero essiccato olio vegetale soia casenato carbonato di calcio da rocce calcaree fosfato di potassico cloruro di potassio magnesio solfato monoidrato cloruro di sodio fosfato tricalcico da fonte inorganiche fosfato bicalcico sciroppo essiccato di gran turco potassio citrato componenti analitici umidità 82,0 per cento proteina grezza 7,0 per cento fibra grezza 0,2 per cento grassi grezzi 5,2 per cento ceneri grezze 1 e 24 per cento calcio 0,2 25 per cento fosforo 0,164 per cento indicazioni latte liquido pronto per l'uso per l'allattamento artificiale dei gattini anche neonati kmr liquid garantisce un apporto completo ed equilibrato di proteine grassi carboidrati vitamine sali minerali ed oligoelementi indispensabili per uno sviluppo armonico degli organismi in crescita la particolare composizione di kmr liquid conferisce al prodotto una facile digeribilità per l'assenza di farine di cereali e per il basso contenuto di lattosio è noto infatti che il contenuto in lattosio del latte di gatta ha decisamente modesto kmr liquid viene prodotto perfettamente sterilizzato per garantire che il prodotto al momento dell'uso sia assolutamente privo di batteri per questa ragione gli allevatori professionisti utilizzano kmr liquid per le prime due settimane per poi passare all'utilizzo di kmr powder pia economico posologia utilizzare come prescritto in etichetta fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato